Sono solo due sconfitte sì, ma per far sì che questa frase abbia senso bisogna veramente reagire già dalla prossima partita Non siamo all'inferno signori, ma continuando così possiamo andarci Quindi forza Lupi, facciamo vedere chi siamo Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale Eh sì, così ci eravamo salutati l'ultima volta perché queste erano state le mie parole dopo le due sconfitte di campionato E' vero c'è stata una risposta perché abbiamo battuto in Europa League 2-0 in casa la locomotive Mosca allo stadio olimpico Assegno il portiere della locomotive Mosca con un autogol indecente E poi c'è stato il raddoppio da parte di Ander Herrera, gran gol da fuori area E comunque adesso dovremo rispondere in campionato Come vi avevo detto alla fine dello scorso episodio vedremo se effettivamente la Roma si è ripresa da questa mini crisi Giocando contro l'Udinese, sarà una trasferta insidiosa al Friuli Ma in questo episodio giocheremo anche altri due big match Appunto il ritorno degli ottavi di Europa League Giocheremo in trasferta in Russia Ma poi dovremo giocare anche un Roma-Inter pesantissimo Perché appunto si gioca allo stadio olimpico All'andata ci hanno battuto loro 1-0 a segno Icardi a 5 dalla fine E soprattutto ragazzi è un Inter che come vedete dalla classifica, dalla mini classifica in basso a destra E a meno 3 dalla capolista Che siamo noi Ci sono tanti fattori che vanno a premiare questo episodio come un grande episodio Ma comunque dovremo far sì che sia un grande episodio vincendo Adesso però vorrei farvi vedere una cosa curiosa Perché allora vi spiego Io l'ho detto sicuramente l'avete intuito dal titolo Dal titolo qua sopra o qua sotto dipende da dove state guardando il video Sicuramente ve ne sarete accorti dalle mie parole e dai fatti che sono successi recentemente Ma poi guardate questa grafica Ok che la squadra è praticamente tutta a pezzi Ma poi guardate lui ragazzi Guardate Iguain Allora io non so cosa succeda di Iguain in questa carriera Ma sta di fatto che il giocatore che io volevo non è mai arrivato Perché qui abbiamo una brutta copia Uno che segna due gol in tutto da quando è arrivato a porta vuota Uno che nella prima parte di stagione invece a Napoli l'ha fatto benissimo Probabilmente non si è mai ambientato ancora qui nella capitale Anche perché è l'unica spiegazione Non penso che Iguain sia diventato scarso tutto d'un tratto Però sta di fatto ragazzi che questo Iguain Non abbiamo tempo Non abbiamo tempo perché il campionato, la stagione corre I giocatori anche molti in questa carriera stanno crescendo Ho preferito lui a molti altri Vi faccio un nome La Casette Potrebbe essere un ottimo giocatore interscambiabile con Iguain Anche perché abbiamo Fekir Che comunque farebbe un'intesa con la Casette Anche se non si parla di Ultimate Team Ma comunque cosa vi voglio dire Vi voglio dire che se Iguain non si sveglia da qui alla fine della stagione Io già so come comportarmi Attenzione intanto arriva un'offerta dell'Italia Arriva un'offerta dell'Italia Non me l'aspettavo proprio Ma qui ragazzi si accetta Si accetta però tra l'altro ci sono gli europei Stupendo Ci sono gli europei ragazzi E allora accettiamo Senza assolutamente Tra l'altro qui neanche ci parla degli europei Accettiamo l'Italia Eh vabbè lo sapete dai Vi avevo già detto come la pensavo io sulle nazionali Vi avevo anche detto che Oltre all'Italia avrei accettato solamente la Francia Appunto per questo europeo Ma qui va bene così Va benissimo così Allora attenzione perché prima di giocare con l'Udinese Ho un attimo da controllare la rosa italiana Ma al volo proprio E poi me la gestisco dopo con calma Quindi in questo episodio Proprio in questo episodio Ora sarà un maxi episodio ragazzi Sarà veramente un maxi episodio A questo punto non so neanche quale sia il titolo Incredibile È il 13 marzo Mancano solamente due mesi alla fine della stagione Per la Roma Ma soprattutto per Francesco Totti Gli ultimi due mesi della sua carriera E quindi è lui oggi a prendersi A portarsi sulle spalle la squadra capitolina In questa trasferta molto insidiosa Lui che ultimamente non ha giocato moltissimo Ha perso probabilmente un po' di condizione fisica Ma ci sta è normalissimo Con l'età e con i vari impegni Che ci sono stati nell'arco di questa stagione È chiaro però che il capitano È sempre il capitano E quindi oggi scende in campo titolare È in ottima condizione fisica Differenza invece di Higuain Come abbiamo visto prima E quindi al centro dell'attacco C'è proprio il numero 10 Ho cambiato anche modulo Passato al 4 del 3 Come vi avete consigliato voi Con il capitano Che aggirà in quella posizione Con gli esterni che saranno Bufal E Salah È cominciata Udinese-Roma Saltato anche con troppa facilità Rudiger E lo allarga Sulla sinistra Per Terone Nare di rigore Terone Florenzi Riesce ad andare in scivolata E a salvare la Roma Grande possibilità Per l'ex attaccante del Chievo Nare di rigore Tiam Prima di Badu Poi la palla verso Benassi che la lascia scorrere Totti Chiude il triangolo Per Benassi Sta partendo anche Bufal Benassi preferisce il capitano Che poi allarga di prima Per Salah Grande controviate della Roma Entra in il rigore o quasi La mette in mezzo Per Totti La risposta miracolosa Del portiere dell'Udinese Che penso sia Garnesis Ma cosa ha preso Sul colpo di testa del capitano Grande palla per la Roma Grande azione di contropiede L'Udinese con il pallino del gioco L'Udinese che comunque Ha capito come si gioca probabilmente contro la Roma Per mettere in difficoltà giallorossi In un momento delicato della stagione Terone Rientra poi a fide del pallone a Zapata Che restituisce a Terone Zona tiro Può calciare Scesni La palla però resta viva in il rigore Il miracolo di Rudiger E poi C'è bandierina alzata Per fuori gioco Ma che occasione per l'Udinese Qui più che Scesni Il vero miracolo L'ha fatto Rudiger In questo momento la Roma È a più uno Del bianconeri In classifica E resta a più tre Dall'Inter Bisogna vincere però ragazzi Per allungare Sui neri azzurri Sarebbe molto importante Non far recuperare ulteriori punti Alla Juventus Adesso direi di continuare Con questa formazione Per il secondo tempo E poi vediamo che succede Almeno per il primo quarto d'ora Bufal Tiam Per Venker Quindi Benassi Si fa vedere Salah Servito Salah prende il tempo Al difensore Rientra sul mancino Può calciare Salah E trova il gol Dell'1-0 Non abbiamo fatto neanche in tempo A commentare l'inizio della ripresa E la Roma passa In vantaggio Col guizzo Di Mohamed Salah Gran gol E qui guardate Perché l'egiziano Prende prima il tempo A Pirispa Rientra sul sinistro E pesca l'angolino Palo gol Una magia Di Mohamed Salah Salah Prevedibile Anche questa giocata di Bufal Che sta calando In questo secondo tempo Sta calando soprattutto la Roma Dopo il gol Allora Zapata Esce Cesni Zapata la vuole saltare sull'esterno La porta è vuota Palla in mezzo E fortunatamente I piedi sono quelli che sono E quindi Che fuggia a Digne La velocità di Zapata Che però sta perdendo lucidità Qui la perde anche Digne la lucidità Palla in mezzo Castan Libera l'area Non è finita perché c'è Badu E può pensare anche alla conclusione Così è col mancino Attenzione poi Calcio di punizione perché c'è stato un tocco di mano Un tocco di mano E allora attenzione Perché da questa posizione Possono far male C'è Terro sul pallone Parte con il destro Terro Il pareggio dell'Udinese Un bolide Un missile Isri Terro 1-1 al Friuli Al 69 Non poteva farci nulla Cesni Non poteva farci nulla per la sua incolumità Asistiam Che ha rischiato la decapitazione Quindi tre cambi per alla Roma Dentro praticamente tutti i giocatori freschi Fuori Totti Tiam e Salah Dentro Odegaard I Turbe E De Rossi Non li ho detto in ordine Ma li ho detto Dalla bandierina Ora c'è Florenzi Che deve pennellare un buon pallone In la tricore Così è Venker sul secondo palo I Turbe Ha sfidato il gol appena entrato Ha ciccato però il pallone E sarà rimesso dal fondo Finisce così 1-1 al Friuli Le reti Entrambe nel secondo tempo Di Salah E di Terro Grande gol Su punizione I gol comunque sono stati molto belli Inutili I cambi nel finale Poteva essere utile Solo quello di Turbe Ma In quella circostanza Probabilmente Era meglio tenere un giocatore più alto Perché i Turbe Per i suoi centimetri Non è potuto arrivare su quel pallone Ci ha provato molto di più L'Udinese Sicuramente molto più aggressiva La squadra di casa Andiamo un attimo A sistemare qui la situazione La facciamo insieme Allora Vediamo un po' Precedentemente Questi erano un giocatore Che avevo inserito A questo punto Toglierei un attimo Higuaín Perché Sembra una perdita di tempo A questo punto E vado a inserire Fekir Con la creazione di occasioni Mi sembra che Rudiger Stia facendo molto bene Allora dovrei Inserire Manolas Che invece Nell'ultimo periodo Era un po' in calo E direi Difesa 1 contro 2 Perché il lavoro Che stanno facendo molto bene Siamo a Kier Che Rudiger Manca un po' a lui Da questo punto di vista Castan Comunque In maniera discreta Sta facendo bene Per il resto Lascerei questi Giocatori E questi esercizi Quindi simuliamo il tutto E vediamo un po' Come Come vanno È Ottima A Per Fekir E Manolas Per quanto riguarda Iago Falke C Il peggiore È stato Herrera con F E poi c'è Il nostro portiere Nescesdi Con una D Comunque Allenamenti che sono andati Meglio e peggio Per alcuni giocatori È chiaro Mi fa piacere Aver visto quelle Quelle A E quindi allora Arrivano anche degli aggiornamenti Che sono relativi Adesso ragazzi Testa all'Europa League Dimentichiamo per un attimo Il campionato Dopo questa partita Bisognerà Pensare Chiaramente al campionato Perché ragazzi Siamo un po' indietro Stiamo perdendo molti punti Ultimamente Le stiamo lasciando Ai nostri avversari Direi di andare A fare i convocati Avrete sicuramente Imparato a conoscermi Negli anni precedenti E quindi sapete che io Nelle amichevoli Pre competizione europea Insomma Penso sempre un po' Ad allenare Un po' tutti Quindi a verificare Le varie condizioni Per il momento Non ho voluto stravolgere Di molto la situazione Ma ho inserito I giocatori chiave Quindi Su tutti i buffon Che non c'era Poi andiamo a capire Perché non ho stesa In difesa Restano quei giocatori A parte Ogbonna Che ho sostituito Con Pirlo Quindi avevo abbastanza Difensori Direi che per due amichevoli Ci bastano questi Pirlo invece Lo consideravo Un giocatore fondamentale Più che altro Per verificare La sua condizione atletica Visto che non è più Ad alti livelli Se così vogliamo dire Visto che è andato A giocare in America Ma comunque Dentro lui Al posto di Ogbonna Che francamente Non ha La mia fiducia E quindi Preferisco giocarmela Con quei tre Difensori centrali Più un eventuale Astoria Adesso vediamo anche il modulo Poi l'ultimo cambio Fuori Cassano E dentro Zazza Fatemi sapere anche voi Consigli qui sotto Chiaramente Adesso avanziamo Con il calendario E pensiamo All'Europa League È un momento Delicato alla stagione E purtroppo È un momento In cui dobbiamo pensare Anche alla nazionale Quindi La concentrazione Deve essere partita Per partita Quindi Quando c'è da fare i convocati Pensiamo a quello Adesso c'è l'Europa League Pensiamo a questo Però dobbiamo dare il massimo E ottenere il massimo Il 2-0 Dell'andata È un risultato importante Ma non decisivo Ecco perché Stasera si scende in campo Con la voglia di far bene Concentrazione a 1.4-3-3 Nuovo modulo Dopo la Buona prestazione Comunque Con la formazione Non titolare Con cui abbiamo sfidato L'Udinese Stasera invece Con i titolarissimi Giochiamo contro La Locomotiv Mosca Confermatissimo Chiaramente Herrera Dopo la buona prestazione Il gol dell'andata Loro mi pare Che abbiano confermato Il loro portiere E quindi Va bene così Detto questo ragazzi Higuain torna Ma deve essere decisivo Deve capire Un po' i meccanismi Di squadra E deve Comunque Invertire La sua tendenza Fino adesso Molto negativa Si scende dunque in campo Con la voglia di Battere questo avversario Anche stasera Chiaramente sarà importante Non prendere gol Ma se poi li facciamo Siamo anche messi meglio Buona partita E soprattutto Speriamo nella qualificazione De Rossi Serve Salah Bisogna cross per lui Cerca di metterla sul secondo pallo Arriva I Turbe Che trova il pallone Non la porta Sarà rimessa dal fondo Per Guglielmo Arriva anche il primo corner A favore del Club russo Attenzione alle palline attive Ragazzi C'è Sendov Che la va a mettere Basta sul primo pallo E la girata di Ciorluca Che non trova fortunatamente La porta Era una buona idea Ho detto Ottenzione alle palle Inattive Perché potranno Risolvere molte cose In questa partita Come per loro Anche per noi Quindi sfruttiamole E ancora servire I Turbe Buona l'apertura Per Juan Manuel I Turbe Che prende il tempo A suo avversario Finisce per terra Calcio di punizione Da ottima posizione Se fosse stato qualche metro Più interno Probabilmente sarebbe stato Anche calcio di rigore Chiaramente Qui è punizione Arriva anche un cartellino giallo Ai danni Di Denisov Quindi calcio di punizione Per la Roma Attenzione che vedo Un De Rossi Selvaggio all'interno dell'area La palla invece Per Naingolane Poi sul secondo pallo Herrera è rovesciata De Rossi Non la prende nessuno Florenzi Tra rimorchio La palla di Iguain In area Iguain Col destro Gullierm Ma sarà ancora calcio di punizione Iguain la porta Non la vede proprio Per il momento Dovrebbe fare un Questo sarebbe stato Un vero gol Su azione Un gol alla Iguain Dalla pace Dalla di rigore A differenza dai gol Anche semplici Che ha fatto fino a questo momento Adesso pensiamo A questa partita Da questa posizione Mi gioco La carta Iguain 24 metri dalla porta I fischi Iguain Gullierm Ancora Risponde presente Sarà calcio d'angolo Anche per la Roma Palla per Iturbe Che cerca Un tocco rischioso Ma che arriva A Naingolane Poi Gullierm Sul destro Cerca Herrera Valore difficile da controllare Infatti non ci riesce Herrera Che proprio se la riprende In netto miglioramento Herrera Che si conquista Un'altra punizione Si arrabbia anche con Peisinov Che lo ha strattonato Per la maglia Ragazzi Herrera Giocatore che Si è sbloccato A differenza di Gullierm Purtroppo Però Noi gli diamo ancora fiducia Calcio di punizione Che potrebbe diventare utile Con De Rossi che la va a mettere dentro L'idea era buona In destro di Daniele Un po' meno Palla in verticale Florenzi sembra in vantaggio Ci mette il fisico su Kasev Quindi Manolas Ferrerera Roma padrona del campo In questo momento Naingolane Ha molto campo qui Attenzione che va dentro Iguain Lo serve Naingolane Gran palla per Iguain Che deve segnare Da qui col destro Finalmente il Pipita Che si sblocca In maniera decisiva Perché questo è un gol Alla Iguain Chiama il passaggio in verticale Riceva il pallone Ed è freddo Davanti alla porta 1-0 per la Roma E adesso gli abbiamo veramente Tagliato le gambe Grande azione Questa di Naingolane Che ha aspettato Il momento giusto Appena Ha visto il Pipita Sulla linea del fuorigioco Lo ha servito E poi lui ha fatto Quello che sta meglio fare Ovvero segnare Solo davanti al portiere Speriamo Che adesso sia sbloccato In modo decisivo Ha risultato molto di più Perché ha segnato lui Rispetto a un gol Che come ho detto Era sì molto importante Ma non è decisivo Perché noi passiamo comunque Chiudo Manolas Che poi la gira Per Florenzi Forse si rallunga un po' troppo Senza il forse Allora Kasev Perniassé Zona tiro per lui Allarga Bussufa La mette in mezzo E arriva il pareggio Gran gol Della formazione di casa Che adesso però Ne deve trovare Altri tre Per passare il turno Due non bastano Perché la Roma Passerebbe per i gol in trasferta Sta di fatto Per questa È veramente una grande azione Quattossata L'unico errore L'unica sbavatura Che abbiamo concesso Una leziosità Di Florenzi Se la poteva risparmiare Florenzi Fuori per De Rossi Che la gira Manolas C'è ancora De Rossi C'è vengono a sinistra Servito la gira Per Iago Falca Al limite Iago Falca Grande giocata Ragazza in porta Guglielmo Si distende E grande risposta In calcio d'angolo Mancano otto minuti Alla fine La Roma è virtualmente passata Non è ancora finita comunque Aspettiamo il fischio finale Ora Guglielmo Allontana Chiaro che loro sono più aggressivi In questo finale C'è da soffrire Come ho detto prima Palla in mezzo Qui Poi al volo La conclusione di Seimdov Che è velleitaria E si può respirare Manca sempre di meno La fine Roma sempre più vicina Ai quarti di finale Che sono già molto importanti Ragazzi Perché significherebbe Già passare due turni Ricordo che in Europa League Ci sono anche i sedicesimi Attenzione a Peisinov Palla in mezzo Manolas può controllare Poi Scesni Mamma mia Cos'è sta roba Via da qui Via da qui Via da qui Trosidis La valla resta lì Poi Peisinov La conclusione Scesni male 2 a 1 2 a 1 Vabbè Non cambia di fatto la situazione Però 2 a 1 Per la locomotive Mosca È chiaro che Così è diverso Perché Arriverebbe comunque una sconfitta Che non pesa Perché con questo risultato La Roma passa lo stesso Ma Arriverebbe una sconfitta Proprio quando stavo dicendo che La Roma con questo Passaggio del turno Eliminerebbe la seconda squadra Dopo la Z In questa Europa League Quindi si qualificherebbe Per i quarti di finale Che sarebbe un Un stato insomma Importantissimo Ora la Angolan Comunque Cerca De Rossi Che era finito ormai Fuori gioco Quindi Poca lucidità qui per La formazione giallorossa Comunque Che ci può stare Sono una partita che doveva essere Era stata presentata Insomma come partita di sofferenza La Roma l'ha giocata anche Alla grande Perché riesce a passare il turno E allora si vola Ai quarti di finale Preparatevi le valigie Perché adesso andiamo a vedere Intanto I risultati delle altre italiane Ma poi Quale sarà il nostro avversario Perché adesso ragazzi Sì abbiamo affrontato squadre Sì abbiamo affrontato squadre Pericolose Perché potevamo Cascarci Non è stato così Fortunatamente Né con Azeta Né con Locomotive Mosca Ma adesso Si può affrontare anche qualcuno Di più Pericoloso Insomma Di più Forte Nel vero senso della parola Vediamo un po' Perché le scelte Sono varie Comunque Lazio che Ferma sull'1-1 Allora Questi sono i risultati completi Passa il Napoli Non la Lazio Restano due italiani In ballo E quindi Quando vi parlavo di squadre Più pericolose Mi riferisco chiaramente Al Liverpool Che ha liquidato Il Granatanae Con un letto 6-3 Al Fenerbahce Che ha eliminato la Lazio Al Borussia Dortmund Che ha eliminato Il Villareal Al Napoli Che comunque Vorrebbe dire Derby italiano Adesso sposto un attimo La facecam Al Non so chi Perché Lo Shakhtar è fermo Sul 3-3 Con Bo Non lo so Poi vediamo E vediamo anche Chi passerà il turno Poi vabbè Ci siamo noi C'è anche qui Una bella scelta Perché Sia il Falsburg Che lo Schalke Sono due squadre scomode Da affrontare E poi c'è il Tottenham Che ha eliminato L'Atletic Bilbao Andiamo a vedere Dal calendario Chi dovremo affrontare Adesso ci sarà la pausa Per le nazionali E la nostra performance L'esordio Con l'Italia Giocheremo contro la Svezia Libra Imovic Come vedete intanto Nella classifica Del campionato La Roma è solo a più uno Sulla Juventus Il Milan Ha preso il posto Dell'Inter Nelle prime tre E quindi Sono contento Che almeno sia Un campionato Apertissimo Perché c'è Tantissima lotta Nelle prime posizioni E se si va avanti E se si va avanti così Sicuramente non si vince Nel senso Se si va avanti così Con le prestazioni Che stiamo facendo In campionato Finiamo sesti Se si va avanti così Con questa situazione Sarà sicuramente Un campionato Che ci farà divertire Fino all'ultima giornata Detto questo Vediamo se il calendario Ci ha già sorteggiato La partita dei quarti Di finale Che giocheremo Contro Liverpool Roma-Liverpool O Liverpool Va bene che ne giochiamo tutte e due Comunque Liverpool-Roma Bene così Voglio giocarla in trasferta La prima E niente Sarà in un mese Comunque abbastanza intenso Perché si parla di aprile Penultimo mese Della stagione Mese Nel quale giocheremo Molte gare di campionato Sono sei C'è il derby C'è la sfida contro il Napoli Insomma Più due di Europa League Quindi Otto partite totali in un mese Che non sono per niente poche L'appuntamento doppio Inamichevole Contro Svezia e Grecia Dell'Italia E del nuovo CT Federico Marconi Parte dallo Stadio Olimpico Quindi si gioca in casa Contro la Svezia di Ibra Che a sorpresa Tra l'altro non è neanche Tra i convocati Questi invece Sono gli undici azzurri Come vedete un 4-3 Con Balotelli affiancato Da Gandreva e del Sciarawi Tanto da sperimentare Per quanto riguarda l'Italia Per quanto riguarda La nuova avventura del CT Che parte però subito in salita Perché la Svezia Al primo affondo Trova subito La via del gol Con questa bellissima azione Che porta Ekdal A segnare il gol Dello 0-1 E quindi si parte Con molta difficoltà Comunque un'Italia Che sembra ancora Un po' lenta e macchinosa Ma di questo parleremo dopo Solo un cross Dalla destra di Florenzi Che sembra il più attivo Nel primo tempo Oltre a Balotelli La Svezia però torna avanti E torna a segnare Con questo cross E gran colpo di testa All'interno dell'area Difesa ferma però Difesa che è concesso Veramente Troppo Pirlo L'età c'è Ma i piedi anche E quindi inventa Per Candreva Che arriva alla 3 quarti Pesca con un gran pallone Balotelli E qui complice Devo dire In modo importantissimo Il portiere della Svezia Che regala A Super Mario Il gol dell'1-2 Quindi l'Italia Può tornare in partita E conosciamo tutti La capacità di rimonta Di questa formazione Ma in generale Delle squadre Allenate Da Federico Marconi Quindi staremo a vedere Se in questo secondo tempo L'Italia riuscirà A completare la rimonta Per adesso Due cambi comunque E proprio Giovinco Ragazzi sarà protagonista Perché guardate qui La trivela inventata Dal magico Andrea Pirlo Protagonista Giovinco riesce a toccarla Per Balotelli Combinano un pasticce Difensori E Super Mario ne approfitta Per la doppietta personale E per il pareggio Degli azzurri Esplode lo stadio olimpico È un pareggio Che fa felici tutti E che fa tranquillizzare In particolare il Neo CT La quale esperienza Sicuramente Con quei due goli Incassati nel primo tempo Non era partita Cominciata Nel modo migliore Come si poteva aspettare Ma comunque In seguito Nonostante Molti altri tentativi Degli azzurri Il tempo non basta Perché finisce Due a due La prima amichevole Tra Italia e Svezia Risultato di parità Ci sarà ancora Molto da lavorare E dopo la parentesi Contro la Svezia L'Italia torna in campo Sempre all'Olimpico Sempre in patria Sfida questa volta Però la Grecia Di Manolas E Torosidis Per capirci In termini romanisti Allenando noi Anche la Roma Ma comunque Cambia qualcosa Come vedete La formazione Non c'è Balotelli Lì davanti Il triente Che è variato tutto Con il Sharawi Che passa a destra Insegna e Zazza A supportarlo Sirigu Al posto di Buffon L'Italia vuole ricominciare Dal secondo tempo Con cui ha affrontato La Svezia E vorrebbe subito Passare in vantaggio Ci va molto vicina Ma qui Insigne Dopo aver fatto tutto bene Si dimentica Di calciare in porta Piccolo dettaglio Per lui E quindi Insiste comunque L'Italia Che in un buon momento Testimonia La squadra azzurra Di voler Mettere sotto Gli avversari L'unico Piccolo particolare Lo state notando Sicuramente Dagli highlights È Finalizzare l'azione C'è molto possesso palla Ma poi alla tre quarti Si fatica Nel finalizzare Appunto Chi finalizza invece È la Grecia Qui in modo anche Un po' rocambolesco Non l'ho presa Francamente benissimo In live Ma comunque Vanno in vantaggio Ancora una volta E quindi Si mette male Addirittura Nel secondo tempo Giusto per non lasciare Nulla di intentato Fanno anche il secondo Tra l'altro Gran gol Da fuori area E quindi Italia Con Le gambe tagliate A metà Praticamente Italia che comunque Sappiamo Non arrendersi Ma qui Per scoprirsi Alla volta del gol del 2-1 Rischia anche di prendere il terzo Si recuperò È ben appostato E qui invece Nel momento praticamente Peggiore dell'Italia Quando ci provavamo Di meno Arriva un gol Anche questo Devo dire Rocambolesco Ma anche questo Molto bello Con Zazza Dara pace Dara tricore Che è bravo a girarla in porta Dopo la conclusione Ribattuta A Candreva Italia che rientra in partita Ma purtroppo Questo non basta Perché finisce 1-2 Sicuramente Ci sarà ancora molto da lavorare Purtroppo Il tempo È veramente poco E allora Non sono andate per niente bene Direi Come avete sentito Dal mio commento Queste due amichevoli Ma ci sarà tanto da lavorare Ci sarà tanto da lavorare sicuramente Non penso però Che ci sia tempo Nel senso che Non ho visto altri amichevoli Adesso andiamo un attimo A dare un'occhiata Nuovamente al calendario Non ho visto altri amichevoli Prima degli europei Bene Molto bene Quindi Non avremo tempo Però Secondo me Non siamo ancora pronti Questa chiamata Doveva arrivare prima Perché adesso Ci troviamo a traghettare Una nazionale In difficoltà È un cantiere aperto Ancora Perché Il problema non è nella difesa Nell'attacco Il problema è proprio la squadra in sé È come se questi giocatori Non avessero intesa fra di loro Come se su Ultimate Team Appunto Per tornare un po' al discorso di prima Prendeste insomma Una squadra Da intesa 34 Possono essere anche grandi campioni Magari vincete lo stesso Però fate fatica Detto questo Mi ha fatto piacere vedere titolari Sia Torosidis che Manolas Nella Grecia Nella Tversa invece Non c'è stato Ibra Altrimenti le prendevamo Ma comunque Questa è la classifica La Juventus ha già giocato E pareggiato Quindi pari punti con i bianconeri A questo punto bisogna battere l'Inter Intanto per tenerli lontani Perché la classifica svanisce quando parlo Eccola qui Allora Per tenere lontanissimo l'Inter Perché con la vittoria Andremo a più 6 Per tenere di nuovo lontano la Juventus Perché torneremo a più 3 E quindi niente Andiamo in campo E dimostriamo Di essere tornati È tornato anche Iguain Forse non era mai arrivato E quindi è finalmente Giunto nella capitale Dallo Stadio Olimpico di Roma Roma-Inter Una sfida Che vale moltissimo Per l'Inter È praticamente l'ultimo treno Per la Roma Un'occasione da non perdere Buonasera E godiamoci lo spettacolo Due squadre che ci hanno fatto divertire In questo campionato Abbiamo visto poc'anzi dalla grafica Miglior difesa Quella della Roma Contro il miglior attacco Quello dell'Inter Staremo a vedere stasera Come si affronteranno Andiamo a leggere le formazioni Con i giallorossi Che confermano Il 4-3-3 Positivissimo Delle ultime uscite Cesni tra i pali Florenzi Manolasca Castane Digne Difesa titolare A centrocampo Mancatello Sostituito Da un Herrera Che si sta riprendendo E che sta entrando sempre di più Nei meccanismi Capitolini Supportato da Nainggolan e Pjanic Davanti Salah Bufal E Iguain Risponde L'Inter Con questa formazione Che andiamo a leggere Andanovic Tra i pali La difesa È composta Da destra a sinistra Con Juan Jesus Vidic E Miranda Medel Davanti alla difesa Con Guarin E Kondo Bia Centrocampo Biaviani e Peridic A supportare il duo d'attacco In 1-0 per l'Inter Un girone fa Stasera l'importante Sarà affrontare questa partita Nella modo migliore Con la concentrazione A mille Saranno proprio in Razzuria Tra il calcio d'inizio Jovetic E Palacio sul pallone È cominciata Roma Inter Miranda La gira Pjanic subito A capire le intenzioni E lo osserva Iguain Che sta partendo La palla dentro Per il taglio del pipita Contro Andanovic Iguain Col destro E il pipita Secondo gol di fila È veramente tornato La Roma passa avanti Al settimo minuto 1-0 per i giallorossi Il taglio di Iguain Pjanic lo serve E poi Un paperone Quello di Andanovic Che ha difeso Intanto malissimo Il suo palo Ma poi Se l'è messa dentro Praticamente da solo Non è riuscito a trattenere Un pallone Non irresistibile Ma comunque calciato Con molta forza Quello del 9 Roma 1 Inter 0 Questo Iguain E lo serve in verticale Attenzione a Sofiane Che vuole accentrarsi Iguain va ancora profondo Bufalo vuole anche lo spazio Per liberare il destro Lo prova da lontano Mamma mia Chiaramente Dovremmo saper soffrire Dovremmo Dovremmo saper difenderci Da quest'Inter Come ho detto Miglior attacco Ma noi abbiamo la miglior difesa Ma non lascia mettere fuori Poi ci prova Herrera Non ci riesce Alla fine Guarda la ingolana In verticale per Iguain Prima che vuole uscire Il tocco è per Bufalo Che deve puntare Guangesus Lo vuole saltare Il taglio anche di Iguain Ancora una volta Sta partendo Anche salata la parte opposta Servito Mohamed In area Mohamed Col sinistro Narovic Gliel'ha calciato addosso Però Ancora una volta Poca freddezza Sottoporta Condobbià Per Perisic Che serve Jovetic Ancora Inter Jovetic sul primo palo Un tiro cross Che fortunatamente Non ha impensierito Scesni Sicuro ancora una volta Nella presa Partita Veramente a mille E allora Bia Bia Niver Un altro controllo dell'Inter Con Jovetic Medel Giocano in maniera Molto veloce Anche loro Adesso Jovetic Fa via una grande gioco Da Florenzi Che questa volta Ha difeso male Ancora Jovetic La scava Digne La valla resta lì Pjanic La gira Non so come Ma la Roma è già ripartita Non c'è veramente Tempo di respirare E allora Herrera In verticale per Salah Che adesso deve puntare L'avversario Lo vuole saltare Si tratta di Miranda Così è Quindi pallone dall'altra parte Per Nainggolan Sta ripartendo Salah Dentro Nainggolan si ferma Poi sfida il pallone a Salah Che prova a girarla Landanovic Sarebbe stato un gol Da Cineteca Quello dell'Egiziano Una partita Veramente divertente Fino a questo momento Ha saltato Herrera Ancora Guarin La Roma organizzata Comunque dietro Però comunque possono Inventare qualcosa E qui ha inventato Condobbià Che stava Per trovare un euro goal La palla sulla parte alta Della rete Fortunatamente Ma guardate qui Come si abbassa Nello stretto Si sono saputi costruire Un'altra palla goal Adesso però attenzione qui Perché infatti Cesni regala il pallone a Palacio Un suicidio di Wojciech La palla in mezzo Sta arrivando Jovetich Il pallone dell'Inter Al 45esimo Il gol di Yo-Yo 1-1 all'Olimpico Un gol che gela La maggior parte dei tifosi Chiaramente non I tifosi dell'Inter Che possono esultare La palla è entrata L'avevamo visto anche in diretta Ma ragazzi Potevano segnare in tutti i modi Invece Abbiamo concesso Un regalo E loro Non hanno graziato 1-1 Pronti a partire Per il secondo tempo Entra Marco Benassi Fuori Ander Herrera Pienamente sufficiente anche oggi Ma nettamente fuori condizioni Visto che Sta giocando parecchio Nell'ultimo periodo E quindi è chiaro che Non regga Tutti i 90 minuti Comunque buona Roma Nel primo tempo Piccola sbavatura Finale Che è costata Nel gol del pareggio Ma comunque Bisogna riprendere Da dove avevamo lasciato Dalle occasioni Avute Ma che bisogna sfruttare In questa ripresa E quindi si ricomincia Con Giallotossi Nel possesso di palla Roma che vuole subito Verticalizzare Con Anna Ingolano Si va a vedere Guain Molto più mobile Oggi Guain Juan Jesus La palla rimane viva E poi è allontanata Lascia Palasio La corsa di Palasio Gli si mette davanti Castan che viene saltato Con troppa facilità Poi la palla in mezzo Resta lì Condobbià Per Jovetic In area Jovetic Ci ha messo troppo Poi la gira Per Medel La palla resta viva Poi la porta vuota Inter in vantaggio Inter in vantaggio Ha segnato Condobbià Un batti e ribatti Clamoroso Una mischia Pazzesca Prima Jovetic Poi Medel Anzi prima Medel Poi Jovetic E poi Condobbià Digne Non poteva farci nulla Anzi Ha quasi rischiato Nel miracolo Ma comunque Inter in vantaggio E adesso ragazzi Non è successo nulla Non è successo Solamente nulla Forza Riprendiamola Passa per il contropiede Mirano col sinistro Per Iguain Ha pescato molto Per l'argentino Finta e controfinta Cerca di saltare Miranda Ci riesce anche Iguain Che anche ci sono tiri da lì Iguain prova col destro Andaro in scorto La palla rimane lì Non ci credo Non ci credo mai Non ci credo mai Nella vita Cosa ha preso Andarovic Che ha salvato Un gol fatto Ha salvato Un gol fatto ragazzi E qui vediamo un po' Se ci fanno A dei replay Al derby poi ci pensiamo Entra i cardi Nell'Inter Ma che occasione Che ha avuto la Roma Non è finita qui Non ci sta bene Il cross in mezzo Non arriva Un gol rimane Giallo-Rossa Arriva invece Andarovic Ma ancora Roma con Digne Pjanic Mette giù Zona di Locaccia In porta Benassi E poi la palla Viene allontanata Roma che ha molte occasioni Ma continua a sbagliarne La maggior parte Non vuole troppo poco Perché loro ne hanno fatti due Quindi forza ragazzi Pjanic Sarà Per Florenzi Cerca l'affodino di rigore Florenzi Finta e controfinta Rientra Florenzi è passato In qualche modo Non so come Palla dietro Andarovic ancora E la palla è entrata Stavolta Milano e Pjanic Per il 2-2 Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi E' un'autorete clamorosa Ma il gol viene attribuito A Pjanic A Navic ragazzi L'ha preso anche questa E poi Nemania Vidic Se la mette dentro Infatti è autorete Di Vidic Viene attribuito a lui Il gol E non a Pjanic E' andato a risultare Ma comunque La palla è entrata 2-2 Partita bellissima Comunque Sicuramente da vedere Manolas Fa attenzione A Kondogui Alle spalle Higuain Non se n'è accorto Kondogui Allora riparte la Roma Con Pjanic Di vicino Benassi C'è anche Naingolanna A sinistra Soprattutto Bufal Che chiama il pallone Servito Il taglio di Bufal Che in qualche modo La tiene Bufal ancora Miranda su di lui Finisce per terra Bufal Ha preso il pallone Miranda E allora non protestiamo Continuiamo a giocarla Ai fischi dell'olimpico Non dobbiamo farci influenzare Ragazzi dai Poi riallarga Per la Florenzi Palla per Higuain Occhio che riparte ancora Salah Grande azione della Roma Trova il fondo Mamed Che può metterla dentro Per Laingolan Che era andato di spaccata Non ha trovato il pallone Neanche stavolta Poi il pallone Che può diventare Per la Roma Sicuramente non mi interesso Del motivo di questo Tischio L'importante è che ci sia stato E quindi Benassi Proviamo a sfruttarla bene questa La palla in area di rigore Attenzione al taglio di Guain Che non trova il pallone Ma questa era una grandissima Palla di Benassi Il lancio di Scesni Verso Pjanic Di testa per Fekir Che mette giù il pallone Gran controllo Dina Bill Occhio a Fekir Sta partendo anche Bufal Palla dentro per Bufal In area di rigore Bufal contro Annaro Il recupero clamoroso Un recupero pazzesco Nella difesa dell'Inter Non so chi sia stato Probabilmente Guangesus Non vorrei sbagliare Ma cosa è riuscito a evitare Che recupero ha fatto Non è finito Ancora Roma Con Pjanic Per Fekir Sta divertendo Bufal Come prima Servito Esce su di Guangesus Bufal rientra sul destro Bufal Ancora una volta Guangesus L'Inter non ci sta Anche l'Inter la vuole vincere E la palla sui dal fondo La mette in mezzo Florenzi Prima di Cardi Palla in fallo laterale E finisce così Game over allo stadio olimpico È 2 a 2 Tra Roma e Inter Una partita veramente Tra le più belle Che abbiamo giocato Fino a questo momento Batti e ribatti Rimonta e contro rimonta Alla fine pareggio giusto Questi gli altri risultati Pesanti La Lazio pareggia a Torino Per 1 a 1 E il Napoli Batte in casa il Milan Andiamo a vedere anche Come cambia la classifica La Roma si riprende la testa Appunto del Del tabellone Se può sentire Comunque no no Torniamo su serie A ragazzi No su serie A Team Roma 61 Juventus 60 Inter 58 Milan 58 Lazio 54 Queste le prime 5 Vediamo un attimo In zona retrocessione Frosinone 19 Ultimo in classifica La prossima del derby ragazzi La vedete chiaramente Nel prossimo episodio È stato un episodio pazzesco Ricchissimo Arriviamo a tantissimi like Spero vi sia piaciuto Spero di montarlo bene Mi scuso ancora come ho detto All'inizio Se per un po' di tempo Comunque vi ho lasciato Ovviamente per tre giorni Senza video sul canale Facciamo quattro Perché giovedì Venerdì e sabato Facciamo tre Visto che questo è scelto domenica Affronteremo anche il Liverpool In Europa League Quindi è ufficiale Che anche il prossimo episodio Sarà un episodio Molto molto ricco Detto questo Io vi volevo chiedere Prima di salutarvi Di lasciarmi qui sotto Le domande per il Fuck you time Ragazzi Permettendo che Devono essere domande Non solamente inerenti al calcio A FIFA Fatevi domande generali Magari se volete Sì su YouTube Ma anche su altre cose Della mia vita Considerando che Ci sarà anche Forse una ragazza Non so se Le ragazze sono quelle C'hanno un po' di Così no Cioè il petto Un po' Vabbè Stronzate a parte Sarà mio cugino sicuramente Una ragazza anche Quindi divertiamoci insieme Facciamo gli unicorni viola Tanto per rimanere Vabbè Poi ve lo spiego E lasciate appunto Un like Un commento Con le domande per il Fuck you time Come vi ho detto Saremo in tre Ci sarà anche appunto Una ragazza Lo rivedo Perché magari ne avete capito E quindi lasciate domande vaghe Detto questo Se non lo siete già Vi invito ad iscrivervi Al mio canale Se non l'avete vista Potete anche benissimo Passare sul mio canale A guardarvi A godervi La prima giornata Della Winter Cup Con questo nuovo torneo Che sto affrontando Con altri risultati youtuber Io vi saluto ragazzi Vi do appuntamento Ai prossimi video Spero presto Con il nuovo video di carriera E bella regà Ora Herrera tiene il pallone Ancora Ander Herrera Non è che portasse La seconda mezza Un tiro Ci avrebbe lo spazio Prova con il destro Ander Herrera Eccolo qui Dalla panchina Il primo gol Con la maglia della Roma Eccolo qui